Le preoccupazioni di Giuseppe racchiudono le ansie e le paure di tutti i genitori per la famiglia e i figli. Secondo le rispettive vocazioni, tutti siamo esortati a riconoscere l'esemplarità di Giuseppe, nei tratti del suo cuore di padre e cheggia il richiamo di Dio per tutti, per la Chiesa tutta, in particolare per tutti i papà. Il suo cuore di padre abbonda di tenerezza, non si innervosisce per le debolezze proprie altrui, non cede al maligno che ne fa capi d'accusa inappellabile, ma rivela fragilità e immaturità, le patisce e le accoglie in nome della battaglia per la santità. Il suo cuore di padre osa l'obbedienza a Dio e l'accoglienza della storia. In ogni parola di Dio ascolta come unico motivo l'amore per la vita dell'uomo e non si obbedisce a Dio se non si accoglie la storia mia e del mondo, zeppa come di aspetti contraddittori e deludenti con la sua cronica piega sbagliata e i suoi conflitti inisolabili. Il suo cuore di padre fiorisce nel coraggio creativo perché nel problema scorge una promessa e nella difficoltà assapora un'opportunità. Dove dilaga l'autorealizzazione con le sue ossessioni e i suoi trucchi, il cuore di padre si prepara e si preoccupa di generare alla vera vita. Quali sono le virtù di San Giuseppe che vorresti mettere in pratica e con quale impegno? Preghi per i tuoi genitori, per la loro dedizione alla famiglia e per i sacrifici compiuti nel silenzio.